revisioni da fare, adattamenti da fare anche in tempi brevi, salvaguardie da rimodulare, ma questi sono gli strumenti di cui al momento disponiamo per la conservazione ma soprattutto la valorizzazione dei territori. Io credo di dover completare perché il tempo è finito. Posso dire che nel rapporto centro-periferia credevo di dover trattare, però già l'ho trattato, il rapporto tra il centro nel senso di governo centrale e periferia nel senso di territori e governi locali e non quello che riguarda l'organizzazione del Ministero perché sarebbe un livello troppo basso di approccio. Certamente sappiamo tutti che è in corso la riforma del nostro Ministero, il dibattito a volte diventa stucchevole, riduzione, sì, soprintendenze, non tagliamo le direzioni regionali, non tagliamo le direzioni centrali. Ecco, questi sono, credo, dibattiti in un alto profilo che non vale la pena trattare in un convegno come questo. Certamente dalla riforma uscirà un Ministero migliore per le sfide che ci attendono tutti quanti. Grazie.